Certo che se uno ci pensa è quasi un delitto scartarlo questo. Vabbè, comunque sia, un saluto a tutti e benvenuti a questo video, perché io qua sto inquadrando il mio storico, mitico ThinkPad X240, perché, poverino, lui ha fatto la sua vita, nel senso che ce l'ho veramente da tanti anni, ancora funziona perfettamente, malgrado gli abbia fatto veramente di tutto, io questo l'ho preso un anno dopo che era uscito, questo è un i7 di quarta generazione, e ancora oggi campa, per cui siamo alla dodicesima generazione, ci ho fatto quasi otto anni con questo computer, sempre in giro da clienti, anche università e tutto il resto, insomma, questo notebook aveva bisogno di un upgrade, upgrade che ho fatto con, ovviamente, un nuovo ThinkPad, sempre da 13 pollici, che adesso andiamo a scartare con voi, vi faccio vedere che modello ho preso, e soprattutto speriamo anche che mi soddisfi secondo quello che effettivamente ho letto online. Trattasi dell'X13 Yoga, quindi versione convertibile 360 con penne e cose varie, tagliamo questo sigillo, cioè, che è quasi veramente un peccato, e andiamo a scartare questo bellissimo oggetto, questo che in teoria è un bellissimo oggetto. Allora, tiriamo fuori qua tutti gli alimentatori, eccetera, e qua dentro dovrebbe teoricamente esserci il nostro computer. grande e grande esattamente come l'altro ThinkPad, qua ci sono un po' di manuali, garanzie, lo appoggiamo un attimo da parte, che voglio vedere se nella scatola c'è altro, qua sotto, oppure non c'è nulla, no, c'è un altro manualetto, vabbè, roba di poco conto, comunque, e mettiamo comunque gli imballi originali dentro, che sono sempre belli. Scartiamo gli accessori con voi, vediamo un po' cosa ci hanno dato. Allora, alimentatore, in teoria dovrebbe essere un Type-C, e infatti mi hanno dato un Type-C, da da da, leggiamo con voi, è un 10W, che arriva fino, ovviamente, a 20V, no, 65W, va bene, un normale, classico, perfetto, eccolo qua, ancora nuovo imballato, c'è anche scritto sopra 65W, dovrebbero averci dato anche la presa italiana, che bello, che lusso addirittura, bene. Buttiamo dentro nella scatola tutta sta roba che, in questo momento direi proprio che non ci serve assolutamente a niente, ok, e passiamo al pezzo bello. Allora, leggero, devo dire veramente, veramente leggero, rispetto all'altro, è abituato a un mattone da girare, questo è veramente, veramente leggerissimo. Sono molto contento perché era bene che fosse così. Poi, finiture, sempre quella, classica ThinkPad, qui ovviamente abbiamo lo slot per la SIM, jack, prima USB, la penna, perché qui abbiamo la penna perché è un convertibile A360, qua un'altra USB, due Thunderbolt 4, questo dovrebbe essere fornito con Windows 10 e non Windows 11, andiamo ad aprirlo. Vediamo un po'. Elegante, schermo opaco, l'avevo preso apposto con lo schermo opaco perché non volevo riflessi, qua c'è anche lo sportellino per bloccare la webcam, tastiera, la corsa è molto, molto più bassa, però, però, devo dire che ci può ancora stare. Bello, veramente bello, io lo accenderai subito, probabilmente non si accenderà perché sarà scarico morto, quindi lo attacchiamo alla corrente. E poi, vabbè, l'unboxing l'abbiamo fatto. Adesso facciamo l'accensione un attimo e dopo di che, ovviamente, la configurazione la farò molto, ma molto più avanti e vi farò sapere che cosa ne penso di questo bellissimo PC. E adesso, dopo averlo provato per un paio di settimane, posso finalmente parlarne. Online in realtà si trovano tante recensioni e cose varie, anche su questo modello in particolare, però, come sempre, quello che vi voglio dare in questo tipo di recensioni è un po' un parere mio di quello che può essere il mio utilizzo e le mie considerazioni. Allora, partiamo dal fatto che è leggerissimo, è veramente straportabile, come design rispecchia naturalmente l'essenza dei ThinkPad e anche come robustezza, perché comunque non scricchiola, l'ho trovato comunque assemblato bene, malgrado gli anni che passino, ed è figo, è veramente, veramente figo da portare. Come porte, sono contento, perché comunque abbiamo due Thunderbolt 4, entrambe possono essere utilizzate per alimentare il PC, un HDMI e due USB, questo dovrebbe essere 3.1 standard, che quindi aiutano jack combinato delle cuffie, slot per, dovrebbe essere una nano SIM, questo un micro SIM non mi ricordo, io non ho il modulo SIM 4G interno, ma lo posso aggiungere perché questo è il modello upgradabile. Un fuoriuscita dell'aria per la ventola dietro, meglio rispetto al Mi X240 a fianco, smart card, vabbè, io non la uso, però qua c'è. Come sempre, come tutti questi ThinkPad, trattiene tanto le impronte, sia sopra che sotto, con questa finitura un po' qui semigommata. Bella, comunque, mi sembra esattamente uguale alle altre. Cosa non mi piace del lato estetico, una cosa che adesso vi faccio vedere. La cosa che in assoluto detesto di più è il caricabatterie USB-C che danno in dotazione, perché vi faccio vedere da qua sotto, scusate il casino, ma lo avrete visto, di che schifezza parliamo. Guardate che batocco da 65 watt vi danno in confezione, cioè praticamente questo affare qua va bene soltanto da tenere nascosto sotto la scrivania, perché altrimenti è inguardabile. Consiglio spassionato per andare in giro, prendetevi un alimentatore tipo questo, quella della Baseus, molto carino, molto più elegante, che dà 65 watt sulle USB-C, eccolo qua. Questo in particolare col ThinkPad funziona benissimo, l'ho provato, l'ho utilizzato in diverse circostanze e, cioè, non lo possiamo neanche considerare, neanche paragonare lontanamente, assolutamente zero. Per cui, benissimo, capiamoci Lenovo, che è un alimentatore, diciamo, da utilizzo fisso, ma potevi sforzarti a fare qualcosa di meglio. Soprattutto qualcosa di meglio sull'alimentatore considerando anche il costo del PC, che non è indifferente, perché parliamo di quasi 2.000 euro buoni in questa configurazione che ho io, quindi 7, 16 giga di RAM e 512 di SSD. Quindi, insomma, potevano sforzarsi di mettere una roba un pochettino più bellina fatta così, non dico di avere 100.000 USB, ma una roba fatta così un po' più elegante, me lo sarei aspettato. Per il resto, a livello di porte, sono abbastanza soddisfatto, certo, potevano mettermi una Ethernet fisica, ma capisco che in questo spazio sarebbe stato veramente impossibile, quindi vi consiglio di prendere un adattatore Ethernet tipo questo, che è USB-C, questo qui tra l'altro è a 2 giga e mezzo, funziona bene con Windows, ho visto, l'ho attaccato su una delle Thunderbolt, lui non ha assolutamente nessun tipo di problema nell'essere utilizzato. Una cosa bella, finalmente di un convertibile, anche perché l'ho scelto, è che questo ha lo slot per la penna integrata, certo, non sarà la penna più bella del mondo, tutta figa della relle, eccetera, ma è comunque una penna che ha due tasti, che rimane bella sempre incastrata nel PC e non ha assolutamente alcun problema. Andiamo ad aprirlo, adesso lo vedete dall'alto, non è che vedrete tantissimo come luminosità, comunque lo schermo mio è uno schermo opaco, ovviamente touchscreen, infatti se uso la penna perché non voglio sporcarlo, come vedete, funziona perfettamente, ha una bellissima luminosità, qui adesso io ho la luce qua sotto, ma come vedete comunque dal video, con la luminosità massima, si vede benissimo, se anche abbasso la luminosità, vedete, non c'è proprio problema, se spengo la luce, come vedete, ha veramente un ottimo ottimo contrasto. Lettore d'impronte sotto al display, mi piace, è figo, ci può stare, ok? Luminosità della tastiera, ve la faccio vedere, abbastanza soft, quelle vecchie magari erano un pochettino più intense, ma io personalmente, che amo stare con la luminosità bassa, in una situazione quasi così di semi trasparenza, quando c'è poca luce, tutto il resto, la preferisco tanto, per cui, molto bene, sono contento. Stabilità delle cerniere, il solito test di rimbalzo, come vedete, non è male, funziona bene, così come funziona molto bene quando lo girate, anche il giroscopio, che adesso un po' si vedrà, a seconda di come lo ruoto, lui si ruota e si riadatta, funziona perfettamente, non ha alcun problema, unica nota negativa, forse è una questione di software, fanno bloccare anche il tasto power per lo sblocco del computer, quindi se per caso vi si blocca il computer, dovete tipo riaprirlo, mentre magari state lavorando che lo avete aperto in modalità tablet, per sbloccarlo con l'impronta. In realtà questa cosa è un pochino arginabile, se come le persone normali, quindi non come me, che a me non piace, utilizzate il sensoriere per lo sblocco per il volto, che è qua presente. Cambiamo un attimo inquadratura e vorrei parlarvi innanzitutto del touchpad, nulla da segnalare, molto bello, scorre bene, probabilmente ha una superficie in vetro, non trattiene le impronte, le trattiene veramente poco, infatti se vedete rispetto a quante impronte tiene ovviamente tutto il case diciamo del pc con integrata la tastiera che è sempre del solito materiale il touchpad non ne tiene per niente. Bellissimi questi tasti soft touch, diciamo quelli del track point, anche il track point funziona bene, non ha problemi, vi consiglio di tararvelo secondo le vostre necessità e non avrete alcun problema, adesso io sblocco il computer naturalmente con il dito, sensore di impronte precisissimo, veramente, veramente preciso, bello anche il fatto che sia sotto il tasto power, non vi ho parlato di tastiera, la tastiera ha una corsa molto bassa che adesso vi faccio anche ascoltare. è abbastanza silent però ci si scrive bene allora come sapete io sono un amante delle tastiere a corsa lunga tant'è che io qua ho una vecchia Model M che uso tutti i giorni e questa corsa qui non è bella quanto la corsa diciamo di un X1 Extreme è ancora più sottile il mio X240 aveva una corsa ancora più pronunciata però ogni tanto ci si sbagliava a scrivere mentre su questa tastiera malgrado la corsa sia così la tastiera è molto bilanciata è soprattutto molto stabile questo c'è anche da dire questo computer ha una stabilità di costruzione eccezionale e ci si scrive bene io non ho trovato nessun tipo di problema nella scrittura e in tutto il resto quindi anche il layout per come pensato per via della dimensione che alla fine questo è un è grande quanto un 12 pollici ma lo scrivo da 13.3 full HD va bene funziona veramente bene eccetera poi le altre robe va bene ve le andate a leggere sul sito qui ci sono i doppi microfoni qua c'è la webcam con il cosino da scorrere per bloccarla con anche il sensore IR questo lo sappiamo tutti ovviamente vi viene dato con Windows 10 perché questa è la generazione 2 ma come vedete potete installarvi anche Windows 11 tranquillamente qui vi da presto disponibile io non l'ho ancora installata perché ancora non mi convince particolarmente ma per un uso mio professionale e parliamo velocemente di batteria dura un casino allora qui da 11 ore rimanete sulla 93% non è realistico però come navigazione web e tutto il resto io ho visto tranquillamente che si fanno sulle 8 ore e mezza produttive se poi si comincia magari ad usarlo molto girare lo schermo eccetera e a fare anche dei rendering perché comunque il processore che c'è qua sotto sembra un i7 da poco ma vi assicuro che spinge come un assassino questo i7-11 6-5-7-G è veramente un assassino non consuma niente ma è sempre prestante sempre veloce e va veramente veramente bene la sua grafica integrata vi permette anche di fare tante robe io ci ho montato qualche piccolo video niente di eccezionale in 1080p senza problemi con un rendering accettabile gira anche vmix volendo con un paio di camere potete farvi un solo encoding va benissimo non ha alcun problema potete martoriarlo come vi pare insomma è veramente un computer che uno potrebbe prendere come computer principale da utilizzare praticamente tutti i giorni magari con una dock in thunderbolt perché va veramente veramente da dio non non trovo un punto debole di questo pc cioè fin da quando l'ho preso in mano mi è veramente piaciuto tanto anche stavolta la lenovo con questa serie con questo x13 secondo me ci ha preso forse ci ho preso anch'io per la configurazione che l'ho preso vuoi per lo schermo opaco touch vuoi perché comunque è stabile vuoi perché comunque ci posso montare il modulo 4g vuoi perché comunque adesso con la storia in televo come vedete si come vedete lo sblocco è praticamente immediato non faccio in tempo ad aprire il pc che già si sblocca e tutte queste cose molto molto carine la cerniera come avete visto non è di quelli ma la lenovo ci ha insegnato questo come me che si aprono con un dito ma benvenga perché se lo usate se lo portate in giro come me senza cover eccetera vi dà un po' più di solidità e questo io personalmente lo apprezzo molto la penna funziona molto bene io la uso molto spesso per fare schemi di regie o comunque appunti vari eccetera anche il sensore di impronte è abbastanza prestante non va male bello che sia sul tasto d'accensione che non ruba spazio io come software personalmente sto usando per ora soltanto la whiteboard di windows sono convinto che ci sia di molto meglio però con questo software vi faccio vedere un piccolo schema che si può mostrare quindi quello di una piccola regia video che ho assemblato funziona molto bene cioè ci si riesce tranquillamente a scrivere a fare l'ho sfruttata veramente tanto tanto girando il pc appunto facendo questi schemi che prima non avevo modo di farlo se non o con una tavoletta grafica oppure dovevo farla su carta che facevo molto prima quindi come produttività aver la penna sempre pronta è veramente bello ci aggiungerò la sim probabilmente non subito perché adesso mi spiace spezzare la garanzia della lenovo per inserire un modulo 4g che dovrei acquistare a parte ma cosa dire costa perché costa ma è veramente un convertibile 360 fatto bene definitivo che spero e le premesse ci sono tutte mi duri quanto un x240 alla bellezza di 7-8 anni detto questo questa mia personale recensione tutta positiva da amante della lenovo forse un pochino troppo anche la concludo qui ma è veramente un bellissimo bellissimo prodotto che non posso non consigliarvi se volete un 12 pollici piccolino anzi un 13,3 grande come un 12 piccolino portatile che comunque spinga e che vi permetta di fare tutto quanto in mobilità senza preoccuparvi troppo della batteria e senza preoccuparvi troppo di quello che dovete fare non vi basta la batteria come sapete la fortuna di questi è che hanno l'ingresso per l'alimentazione a 65 watt con un classico type C quindi potete prendervi anche i power bank e quelli grossi se volete ampliare ancora di più la batteria non dovete quindi non serve andare a cercare per forza una fonte di energia o svappare batterie come una volta ci può stare questa soluzione io personalmente non ne ho mai avuto bisogno neanche con il mio X240 dubito di averne bisogno con questo però le esigenze di tutte le varie persone sono sempre diverse ora concludo il video finalmente detto questo ci vediamo naturalmente al prossimo video